Avviato a Bari, presso il padiglione istituzionale della Regione Puglia in Fiera del Levante, il primo forum a gire per il clima, un evento di partecipazione dal basso che ha chiamato a raccolta sindaci, esperti, associazioni e cittadini, insieme per scrivere il piano strategico Puglia 2020-2030 e le strategie per lo sviluppo sostenibile della Regione Puglia. Si è trattato di un processo di pianificazione che riguarda l'ambiente con tanti obiettivi per il futuro, uno su tutti, convincere l'Europa e il governo italiano a finanziare in maniera importante i processi di decarbonizzazione delle industrie e dell'energia. Nel corso del forum il presidente Emiliano ha conferito il premio Radice di Puglia al piccolo Potito Ruggero. Il presidente, a nome dell'intera comunità pugliese, ha conferito questo premio al bambino per l'impegno e la straordinaria passione che hanno contraddistinto la sua adesione al terzo Global Strike for Future contro i cambiamenti climatici, una manifestazione che si è tenuta a settembre scorso e lui è stato l'unico nel suo paese, Stornarella, a manifestare con un cartello che rappresentava una torta farcita di plastica.